L'istituto Negrelli di Feltre sarà demolito e ricostruito. La provincia, proprietaria dell'immobile, ha candidato il progetto di rifacimento al PNRR, ottenendo i 15,9 milioni di euro necessari. Bisognava osare e l'abbiamo fatto, commenta la vicepresidente Lucia Darold. Era una candidatura difficile e complessa, ma abbiamo ottenuto un risultato eccezionale. Dato che la struttura presenta problemi difficilmente risolvibili come la carenza di aule, consumi energetici eccessivi e un livello di antisismica non ottimale e che la sistemazione sarebbe stata costosa e spalmata su un quinquennio, Palazzo Piloni ha optato per il completo rifacimento. Il bando PNRR fissa la conclusione dei lavori entro la primavera del 2026. Prima di far partire il cantiere ci sarà un concorso del Ministero dell'Istruzione per la predisposizione del progetto. Chi vince realizza il definitivo. Poi entro il 2024 le ruspe dovrebbero entrare in azione. Intanto sempre in tema di strutture per gli studenti a Longarone verrà realizzata con 7,6 milioni provenienti ancora una volta dal PNRR la nuova cittadella scolastica.